ben trovati amici telespettatori di 50 canale versiglia oggi una partita a lamporecchio allo stadio comunale di lamporecchio i giardinetti fra lamporecchio quadra padrone di casa il pietra santa tutto è pronto per il calcio d'inizio il signor lorenzo mazzi di prato da il via all'incontro c'è riserve macagnola che può entrare in aria ma si ferma e poi prova a tirare fuori vitolo ancora il suo tiro di vitolo mariani deve metterci le mani e deviare in corner ne salta due bravissimo il bello spunto la palla dietro per il tiro alto ancora il la lampo prova il cross in mezzo trova in qualche modo petraci poi pinelli prova la mezza rovesciata è frenata la sua azione di tiro viene anche trattenuto da fortini palle in aria macagnola c'è risciva giù in aria attenzione e allora rimessa dal fondo si inserisce controlla la sfera la larga per la ucci che può anche calciare ci pensa lo fa il tiro è largo allarga con sabo che attacca pardini aspetta la sovrapposizione di cardillo può andare al cross basso cardillo la palla in mezzo non arriva pinelli che per poco scusate non arriva petraci che per poco non trova la via del gol corner di tosi palla in mezzo il colpo di testa di la ucci schiacciata la rovesciata di pinelli che però non arriva sulla sfera e quindi si riparte con la lampo che libera di rigore finta si accentra poi serve dietro cardillo può crossare ma il suo cross è molto profondo pinelli sul secondo palo col contro cross per petraci il tiro rimane contrastato da mangoni recupera palla c'è dietro borgioli vediamo se lo serve no vuole fare da solo va sul fondo cross basso ma cagnola la parata parte monti verso mariani che a vita facile blocca la sfera pardini che corre pardini core la mette in mezzo borgioli non arriva sulla sfera era ghiotta quest'occasione maggiore da noi al suo compagno palla monti monti può anche calciare da quella posizione lo fa mariani con un miracolo dice no a monti da tenere d'occhio questo ragazzo corner di borgioli la mette in mezzo colpa di testa di cerri che non trova lo specchio della porta era stato dimenticato al centro dell'area di rigore il numero 9 il capitano della lampo con monti e con cerri attenzione la svirgola poi il tiro e mariani deve metterci ancora le mani si inserisce nicolini che la scava verso maggiore maggiore proprio di tempo petraci 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 anticipato benissimo bravissima la chiusura di taddei la palla rimane ancora lì lancio lungo verso cerri che contro tre giocatori di pietra santa cerri fa la guerra con matteoni entra in aria cerri può calciare mariani la blocca a terra attento ci segnalano dalla panchina del della lampo cross in mezzo non arriva nessuno incredibile dormita difensiva della lampo esce venturini e finisce qui 0 e 0 fra lampo e pietra santa ciao 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 ciao